E' un pieno di grandi nomi della musica italiana ma soprattutto un pieno di solidarietà, tutto questo è agosto con noi. Manifestazione iniziata il 6 di agosto che terminerà il 18 di agosto tutte le sere organizzata dalla comune di Ozzano Emilia dalle ore 20 e 30 con incasso devoluto interamente all'istituto Ramazzini che suolge attività importante di ricerca e prevenzione sui tumori. Tra i grandi nomi si sono qui presenti alla manifestazione Giovanni Mazzanti ci ha raccolto sabato queste importanti testimonianze di Dodi Battaglia, dei pub, Beppe Carletti dei nomidi e anche l'ex corista di Lucio Dalla, Xcra Menarini, già nota ai nostri teleschermi, il servizio di Giovanni Mazzanti. Pensavo che il mare fosse riccione ma mi sa che è proprio qua stasera e poi gli applausi quando tu vai a cantare qualcosa di Lucio che non sanno più come dimostrargli tutto il suo affetto e il suo amore, pensa io che faccio altra musica ma mi sono infilata dentro questo viaggio e mi sembra di riscoprirlo ogni volta. Sì, hanno preso due anni di aspettativa perché si sta avvicinando un compleanno fantastico che è quello di 50 anni di lavoro insieme e allora per organizzare questo grande evento ci vuole del tempo, ci vuole delle energie, allora abbiamo preso un po' di tempo per organizzare questo grande evento. Speriamo che sia oltre a un grande festeggiamento sia anche un'occasione di riunio ma non lo so ancora perché questi due anni serviranno per organizzare proprio questo. È bello esserci in queste cose qua, penso che facciam bene ed è una cosa meravigliosa, puoi vedere tanta gente lì davanti, insomma, tante ragazze e ragazze che partecipano sul palco, è bellissimo esserci, cioè è meglio esserci che non esserci, sono di quegli inviti a cui tu non puoi dire no e spero che altri seguano il mio esempio, quelli di quelli stasera.